Tutti dicono cosa fare e cos'è bene per te. Non vogliono che trovi le tue risposte. Vogliono che tu creda alle loro. Fammi indovinare. Tu vuoi che creda alle tue? No. Io voglio che tu smetta di raccogliere informazioni dall'esterno e che inizi a trovarle dentro te stesso. Fai parte di una specie di setta per caso? La gente teme quello che ha dentro. Ma è l'unico posto in cui troverà tutto quello che serve. Perché non riesci a dormire? Forse perché a notte fonda, quando i rumori si attenuano e sei lì sdraiato nel letto e non c'è nessuno tranne te, allora forse hai un po' paura. Paura perché d'improvviso sembra tutto così... vuoto. Dimmi che non vuoi essere soltanto qualcuno che sale su quegli anelli ed esegue una o due acrobazie ben fatte. Dimmi che vuoi essere qualcuno che usa tutta la sua mente, il suo corpo, in modi che gran parte della gente non oserebbe mai fare. e io ti allenerò, Dan ad essere un vero guerriero.